In periodo di campagna elettorale anche la chiusura di una strada può diventare un caso politico, soprattutto se proprio in quella strada c'è la sede elettorale di uno dei tre candidati presidente Emilio Izzo della lista. Io non voto i soliti noti. Domenica pomeriggio era prevista l'inaugurazione della sede e la presentazione dei candidati proprio in corso Marcelli, dove però non più tardi di qualche ora prima l'area era stata transennata e interdetta al traffico a causa di problematiche legate alla messa in sicurezza del tetto del polo museale di Santa Maria delle Monache. I vigili del fuoco hanno precisato che dopo un sopralluogo hanno potuto constatare la presenza di alcune tecole di velte, come se non bastasse nella rampa adiacente alla biblioteca anche una fuga di gas. Per questo motivo il comune ha deciso di vetare il transito di veicoli e pedoni in quella parte del centro storico. Izzo si chiede come sia possibile che uno stabile chiuso otto anni per ristrutturazione e riaperto solo 12 mesi fa già presenti dei problemi di sicurezza. Ma questo tetto è stato mai sottoposto a revisione perché da quello che mi risulta anni fa io lasciai questa struttura che era perfetta, poi lo hanno chiuso per otto anni, hanno speso una montagna di euro per farci lavori dentro e non si sono preoccupati della sicurezza. Izzo a posto dei dubbi soprattutto sulle procedure adottate sulla vicenda da parte del comune. Intanto di chiuso non c'è assolutamente niente perché qui si passa normalmente, un nastro non significa nulla, sta di fatto che c'è la nostra sede, non possiamo accedere né per inaugurarla né per prendere le nostre cose. Due assessori interpellati non sapevano assolutamente niente, il terzo non ha risposto, il sindaco non si sa. Questo certamente non è un caso, c'è l'inaugurazione di una sede, c'è una formazione politica che è candidata in questa tornata elettorale, c'è un candidato presidente, c'è una struttura che riceve le mail. Noi da tutti quelli che conosciamo, questure, prefetture, vigili del fuoco e vigili urbani, non abbiamo avuto una comunicazione che diceva che non c'era accesso alla nostra sede. Allora questa sicuramente, il resto potrà essere anche coincidenza, diciamo, ma qui proprio coincidenza non ce n'è. Al di là delle polemiche politiche cerchiamo di attenerci ai fatti. Qui è dove è avvenuta la fuga di gas, c'è un'ordinanza comunale, come potete leggere, ma questa ordinanza comunale fa riferimento ad un intervento sulla rete del gas del 22 maggio 2023, mentre oggi, ricordiamolo, è 19 giugno. E per di più questo intervento è previsto a Ravasecca, mentre qui ci troviamo nel centro storico di Sernia. E poi c'è un'altra problematica, secondo Emilio Izzo, proprio legato a questo divieto di transito lungo parte di Corso Marcelli, perché vedete qui c'è il divieto di transito ai pedoni e ai veicoli, ma in realtà lungo questo tratto di strada vivono tante famiglie. Che significa? Che le persone che abitano qui non possono accedere alle proprie abitazioni? Quindi la domanda è, ma qualcuno li ha sfollati?